Non c'è comune in Molise senza una frana, potrebbe sembrare una forzatura, invece il dato è puramente statistico, considerato che i paesi colpiti dal dissesto idrogeologico rasentano la totalità. Una goccia nel mare è rappresentata dai 4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e Digitale, a favore di quattro comuni molisani. I fondi, stando alla dicitura tecnica del capitolato, servono a mitigare il rischio frana in Molise. I comuni individuati sono Isernia, Colletorto, Morrone del Sannio e Cerce Piccola. Durante un incontro tra il governatore e i sindaci interessati, Toma ha spiegato ai rappresentanti dei comuni che l'importo assegnato è addirittura superiore a quello indicato in una fase iniziale. L'importo maggiore, 2 milioni e mezzo di euro, ha preso la strada di Colletorto, dove verranno impiegati per incanalare l'acqua lungo corso Vittorio Emanuele e per evitare il dissesto che interessa alcuni tratti della fognatura. Poco più di mezzo milione serviranno ai Misernia per consolidare l'eremo dei Santi Cosma e Damiano e la Rupe, mentre per la frana in Via Paradiso arriveranno a 165 mila euro. 460 mila euro destinati per il rischio dissesto del versante sud a Morrone del Sannio e infine 350 mila euro andranno a Cerce Piccola per il primo lotto di intervento contro le frane sul territorio comunale. Avere i progetti pronti, ha commentato Toma, è indispensabile per ottenere subito i fondi come avvenuto per questi 4 milioni. Tuttavia resta al palo un altissima percentuale di comuni alle prese con frane storiche e devastanti che rischiano non solo di distruggere strade, case e paesaggi ma costituiscono anche un deterrente per le nuove generazioni che nei loro paesi vorrebbero continuare a poter abitare.